Quattro mi senza palla, quattro in con la palla e quattro in fondo senza palla. Fate partenza e palleggio, cambi di direzione, fai penetrazione, puoi scegliere di tirare o scari sul tiratore. Va bene? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E concludiamo questa serie di ringraziamenti ringraziando tutti quelli che hanno partecipato per realizzare questa serata. L'importanza delle mamme, lo staff delle mamme No Limits che si è venuto a creare. Allora io voglio solo ringraziare questa società perché nei mesi in cui Ema si è fatto male l'hanno sopportato in tutto. E quindi per me questa è una seconda famiglia così come ha detto mio figlio a dicembre. Però abbiamo un ospite importante che è un allenatore appunto che chiaramente ormai conosciuto più che conosciuto ma a livello internazionale non solo italiano. E stasera noi vorremmo diciamo così omaggiarlo come ormai stiamo facendo nelle nostre riunioni della Palana Estro Grosseto con la cittadinanza anoraria Palana Estro Grosseto come abbiamo fatto con Galanda e che ho poco con Basile. Abbiamo la fortuna di averlo qui con noi in sala Luca Banchi quindi prego 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 lascio la parola al Presidente chiaramente. Buonasera a tutti grazie in bocca al lupo e augurio per il vostro futuro a qualsiasi livello arriviate. Grazie tra l'altro Luca ha iniziato la sua carriera da giovanissimo come allenatore. Questa è un'opportunità per tutti i giovani che possono avere un talento sul parquet ma non è detto che sia l'unico talento. E quindi possono esprimere anche la loro passione in tanti ruoli che ci sono. Però io non facevo schifo come giocatore. Ero solo sottovalutato. E' bello anche constatare questo senso di comunione e aggregazione che si percepisce stasera. Quindi continuate su questa strada perché indipendentemente da poi quello che la Palana Estro rappresenterà per voi nel futuro immediato e prossimo. Però questi sono momenti che, vi garantisco, scolpiranno un po' anche il vostro futuro perché certi legami poi restano indelebili nel tempo. Questo club sia sulla strada giusta, quella di creare prima di tutto un fortissimo senso di aggregazione e di appartenenza che poi è il segreto ad ogni livello. Cittadinanza onoraria Palacanesto Grosseto T90, coach Luca Banchi. Per l'arte di saper modellare il destino delle squadre a lui affidate con entusiasmanti storie di rinascite e vittorie. Opponendo all'inerzia degli eventi quel sacro fuoco di passione e professionalità che lo rende speciale nel suo lavoro. Pur vivendo sotto i riflettori internazionali, Luca mantiene solide radici con la sua terra di origine. Offrendo a tutti noi l'esempio per le future generazioni di allenatori. Grazie a nome di tutta la Palacanesto Grosseto. Questa è la Polo, penso ti stia una L, stai benissimo, con il nuovo logo e noi ti vogliamo vedere ai mondiali prossimi con questa maglietta. Mi raccomando, è una promessa, ve la faccio, grazie. E questo l'abbiamo detto. Poi prima di passare alla breve cerimonia, se facciamo la finale me la metto. Mi sono dimenticato di ringraziare anche Silvia che è una grande appassionata e devo dire colgo l'occasione perché dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Quindi Silvia, veramente grazie di essere qui stasera con noi, complimenti per il lavoro che hai fatto. La serata lascio la parola, chiaramente le ultime parole al Presidente Luca Giannini. Rimane da ringraziare ovviamente tutte le famiglie, tutti i dirigenti di ogni squadra che hanno contribuito a portare avanti l'impegno durante l'anno. Quindi un grazie speciale ai genitori che hanno dedicato il loro tempo alla squadra, alle squadre di riferimento. Un ringraziamento va naturalmente a tutti i nostri allenatori, ma l'ho appena detto. E anche a Lorenzo Massai come presentatore. Io direi di fare un grande applauso a Lorenzo perché è stato veramente un esempio di attaccamento alla società come giocatore, come allenatore estremamente preparato. Bene, allora a questo punto io se siete d'accordo farei il più potente urlo che facciamo noi quando entriamo in campo e facciamo la partita. Quindi io chiamerò uno, due, tre, poi possibilmente da Capalbio devono sentire Grosseto. Uno, due, tre, Grosseto! Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti.